Buongiorno ragazzi, domani c'è Borussia Juventus Ci dobbiamo credere, ci dobbiamo credere ragazzi Ci dobbiamo credere, dobbiamo andare in Champions Dobbiamo andare in Champions Ma tutto ciò non dipenderà solo da noi Tutto ciò non dipenderà solo da noi Ma dipenderà dai risultati del Milan e del Napoli Dipenderà anche dai risultati del Milan e del Napoli Quindi non dipende solo da noi Ma noi dobbiamo vincere a Bologna Dobbiamo vincere a Bologna Dobbiamo vincere a Bologna E portarci a casa i tre punti Che sono importantissimi ragazzi Domenica sera, domenica sera E' una partita importantissima Dobbiamo vincere a Bologna Dobbiamo vincere a Bologna Cazzo! E portarci a casa i tre punti Che potremo andare in Champions Come ho detto prima Tutto non dipende da noi Non dipende solamente da noi Ma dipende anche dai risultati del Milan e del Napoli Quindi ragazzi Non ci resta solo che crederci! Che crederci! Crediamoci! 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 Forza ragazzi Forza ragazzi Forza ragazzi Cazzo! Bene ragazzi Con questo è tutto Vi auguro una buona giornata Iscriviti al canale YouTube E serviti i miei su Instagram Su Zebra Tattila Basso Bianconera E serviti specialmente Sulla pagina Facebook Di Zebra Bianconera Fino alla fine Forza Juventus Buona giornata a tutti ragazzi Ciao! Ciao!